Un venerdì importante, l'ultimo giorno delle scuole, o almeno per la maggior parte, e c'è la possibilità di nuovo di essere un po' più liberi. Che dire, ci si sveglia con un venerdì importante, Giannini Paolini 1,63 di ragazza, ma immensa, piccola in altezza, ma immensa, batte Andreva e raggiunge la finale del Roland Garros, la sua prima finale di un master, incontrando la Sviateca. Ora testa bassa, senza paura, la si può giocare, fino lì ci siamo arrivati, il numero 10 al mondo l'ha conquistato, e questo è importante. Poi se si riuscirà a vincere, indubbiamente già vederla in finale è veramente tanta roba, anche perché Andreva è stata spazzata via, incontrare la Sviatec sicuramente è uno stimolo in più per giocare una finale al massimo, per questo scricciolo di 1,63, ma immensa quando è nel campo. Stessa gioia anche per Vavasore Bolelli, che battono Bopanna l'indiano e Hebden l'australiano, e raggiungono la finale anche loro nel doppio, questa è una gioia immensa per quello che stanno facendo, ma è una soddisfazione anche perché poi sappiamo di avere in Coppa Davis un doppio di assoluta qualità. Quindi abbiamo già la Paolini in finale, abbiamo Vavasore e Bolelli nel doppio maschile in finale, oggi ci sarà Sinner contro Alcaraz e poi il doppio femminile Paolini e Errani. Sarebbe fantastico avere tutti e quattro in finale, ma vediamo un attimino anche la reazione di Sinner al raggiungimento del primo posto e vediamo se Paolini con l'entusiasmo riuscirà a aiutare Sara Errani a raggiungere la finale di doppio femminile. Un tennis che parla solo italiano, un lavoro eccezionale, una Francia dove abbiamo già due finali italiane e speriamo che a Roland Garros ce ne siano altre due, questa è una gioia, un'immensa gioia per il lavoro fatto, per l'immenso lavoro fatto indubbiamente per aver ottenuto questi risultati nel tennis italiano. Vi ringrazio sempre, vi saluto, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita, potrei dire liberamente la tua sullo sport. Un saluto a tutti, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao!